Samir, mini pasticcere di Bormio, ha conquistato il quarto e ultimo posto per la finale di Junior Bake Off Italia, in onda questa sera su Real Time Tra i quattro finalisti che si sfideranno a Junior Bake Off Italia ci sarà anche Samir, 11 anni, di Bormio Samir Ricetti ha stupito tutti con le sue produzioni dolciarie, a partire dalla torta di mele, grazie alla quale ha vinto la prima puntata aggiudicandosi il prezioso Grimbiule Blu Nella semifinale di settimana scorsa, i mini pasticceri hanno dovuto affrontare i grandi classici della pasticcerie A Samir sono toccati i profiterol, li ho già fatti ma non con la glassa al cioccolato, ma non è una prova difficile, ha commentato il bambino A metà gara però i giudici hanno deciso di cambiare le carte in tavola, i piccoli concorrenti si sono ritrovati a preparare delle torte mashup I più grandi Samir saranno dovuto realizzare la foresta roles, un mix tra la foresta nera e i profiterol Ci sentiamo più bravi perché siamo un po' più avanti degli altri, abbiamo più esperienza, hanno commentato i due bambini La loro torta mashup presenta un errore, le amarenne non denocciolate. Knam diventa ancora più severo quando al taglio scopre che il dolce presenta un buco Il risultato però è ottimo, la vostra foresta roles mi piace un casino, esclama il pasticcere tedesco Samir conquista l'ultimo posto in finale.Nella prova successiva della semifinale di Junior Bake Off Italia 2019 i sei mini pasticceri vengono affiancati da altrettanti mini mini pasticceri per realizzare la torta puzzle, un ricordo del maestro Knam che da piccolo amava fare i puzzles Il giudice riferirà ai più piccoli, tramite telefono, i passaggi da ripetere ai concorrenti Samir viene affiancato da Anastasia, il loro dolce conquista con il rosa forte scelto per la spatolata superiore Alla fine il piccolo pasticcere di Bormio riesce a conquistare l'ultimo posto nella finalissima, che andrà in onda questa sera alle 21 10 su Real Time. Sara A, Samir, Rachele e Antonio, chi sarà il miglior mini pasticcere d'Italia? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like